Allora oggi proveremo per la prima volta a fare un versamento con l'assegno alle casse veloci di l'intero San Paolo Allora oggi proveremo per la prima volta a fare un versamento con l'assegno Allora oggi proveremo per la prima volta a fare un versamento con l'assegno Allora oggi proveremo per la prima volta a fare un versamento con l'assegno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti